C'è l'escella, l'arbre è l'escella, la barri a tì e tu sarai altro, e tu d'arcella sei la patrò, e tu d'arcella sei la patrò, ora davanti a Dio e tu sarai altro. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere l'arcivescovo per fare la benedizione anche dei campi. I gesti del Vescovo sono per noi una scuola, una scuola di preghiera, di pellegrinaggio e di tutto. Lui diventa come noi il pellegrino con la Madonna e questo ci infonde anche il coraggio. Adesso il Vescovo dice all'Ave Maria, poi licenza alla Madonna e poi benediciamo i campi. Ave o Maria, rieda di grazia al Signore con te. Tu sei benedetta a fare le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rieda per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. guarda benigno, o Padre, le nostre campagne. Dona alle zolle assetate il refrigerio della pioggia. Alle nostre famiglie l'armonia e la pace. Allontana il flagello delle tempeste e fa che nel tranquillo svolgersi delle stagioni sia fecondato e rimunerato l'impegno quotidiano per il benessere della nostra gente e di tutti gli uomini nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Intercedono per noi la Vergine Maria, invocata sotto il titolo della purità, e tutti i testimoni di Cristo i cui nomi sono nel libro della vita. passiamo a riprendere il cammino. Passiamo a riprendere il cammino. Mi raccomando, con ordine adesso scendiamo. Volevo ricordare a quelli che magari si fermano a fare picnic qui che oggi è domenica. recuperiamo le file e l'ordine. Mi raccomando. Passiamo a riprendere il cammino. Il Dio è il pezzo mio, il Dio è il pezzo mio, il Dio è il pezzo mio. Grazie a tutti.